Ci spostiamo a Lecce, senza ascolto non troveremo la pace. Sono le parole del Cardinale Zerni, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, pronunciati appunto a Lecce a margine della presentazione del suo libro dedicato a Papa Francesco, il servizio di Alba Di Palo. Un libro che ruota attorno a una parola, fraternità, per spiegare che essere prossimi, vicini, che tendere la propria mano all'altro vuol dire entrare in ascolto diventandone fratello. Si intitola Fraternità Segno dei Tempi, il Magistero Sociale di Papa Francesco, il volume scritto dal teologo Don Cristian Barone e dal Cardinale Michael Cerni, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, è presentato a Lecce. Il volume parte dall'enciclica papale Fratelli Tutti, in cui torna la parola Fratelli, che sintetizza il Magistero di Bergoglio, che seppur rivoluzionario, recupera la tradizione della Chiesa. Questo Papa con la sua insistenza sull'ascolto e dialogo sta portando avanti la tradizione della Chiesa che è nata dall'ascolto della parola di Dio. Tra le pagine del libro emerge la volontà di dare vita a un cammino comune che va percorso con coraggio e speranza per creare le premesse per un futuro migliore. La fraternità universale diventa un segno dei tempi che non dimentica il Vangelo. Nelle sue omiglie e nei suoi discorsi il Pontefice non dimentica mai, evidenziano gli autori, di individuare dei verbi precisi che sono dialogare e ascoltare, cardini del Magistero del Santo Padre. Se non cominciamo con ascolto dalla parola e se non cominciamo con ascolto al fratello e alla sorella siamo rinchiusi in un mondo già fatto e non incontriamo la possibilità di divenire fratelli e sorelle e purtroppo in questo momento non incontreremo neanche la possibilità di fare la pace o di salvare l'ambiente.